Da alcune notti dorme sotto i porticati del teatro Gesualdo in preda al gelo, protetto solo da alcune coperte e un lenzuolo recuperati dai passanti o dai residenti. Si tratta di un giovane senza tetto, probabilmente un immigrato che di mattina presto si allontana dal suo giaciglio per spostarsi in altre zone della città. Il ragazzo ieri in crisi per il freddo ha cercato di ripararsi anche all'interno di un condominio. Raffaella Zappella, nella tarda serata di ieri di passaggio, ha visto il giovane a terra e attraverso i social ha lanciato un appello. In pochi minuti si è creata una rete nel tentativo di proteggere i senza tetto. Allertata anche la Caritas, che ha preso informazioni sul caso, i volontari della mensa dei poveri questa sera cercheranno di raggiungere il giovane per prestargli soccorso e ospitarlo nel dormitorio della cittadella della Carità. Intanto alcuni cittadini già in questi giorni hanno aiutato i senza tetto a proteggersi dal freddo, portando oltre alle coperte anche bevande e passi caldi. In realtà non credo di aver fatto nulla di straordinario, semplicemente passando di qui sono due sere che comunque ho osservato questa situazione. In tutta onestà non ho avuto il coraggio di avvicinarmi né di fermarmi, però nel mio piccolo ho cercato di usare i social network perché servono anche a questo. La sorpresa gradita è stata quella che il mio posto è stato condiviso da tante persone e che comunque si è creata una rete di solidarietà e quindi tante persone, oltre a condividere, si sono interessate. Quindi togliamo anche che sembrerebbe, c'è comunque una disponibilità da parte della struttura della Caritas, la mensa dei poveri, ad accogliere questa persona. Notiamo piccoli segni di solidarietà, la ciotolina con la pasta, poi notiamo anche un contenitore di carta che probabilmente hanno portato qualcosa di caldo, un bicchiere, quindi significa che c'è una parte di questa città che comunque interviene quando ci sono casi. E questo ci fa piacere, Ottavio, perché voglio dire che questi fenomeni purtroppo sono molto diffusi nelle metropoli a Milano, a Roma, però in una piccola comunità come quella di Avellino queste situazioni non devono essere monitorate, devono essere controllate e devono essere sicuramente gestite. Io voglio ringraziare comunque Alessandro, Fabrizio, Serena, Patrizia e tutti quelli che comunque ci stanno aiutando a fare una buonazione di Natale, perché Natale non è soltanto luci, regali e cose, è anche fare qualcosa di buono.